C'era una volta una pecora, si chiamava Dolly, e quando nacque nella campagna scozzese, nell'ormai lontano 1996, non si sarebbe mai attesa tanta celebrità. Ad annunciare la nascita, un fax. She has been born, she had a white face and furry legs. Wow, niente di più normale per il primo mammifero clonato con successo da cellule adulte. Fotocopia esatta di un altro esemplare, Dolly aveva il patrimonio genetico identico a quello della sua mamma, ed era venuta al mondo, aveva iniziato la sua vita in una provetta. Tutto questo grazie alla biotecnologia. E così, grazie anche al contributo fondamentale di una pecora delle Highland scozzesi, la biotecnologia ha fatto ufficialmente irruzione nella nostra quotidianità, alimentando speranze, fantasie, ma anche perplessità, dubbi e persino paure. Oltre due decenni dopo la nascita di Dolly, la nostra capacità di utilizzare sistemi biologici e organismi viventi, al fine di affrontare quelle che sono le maggiori problematiche della nostra era, è aumentata a un ritmo esponenziale, fornendo soluzioni sempre più efficaci ed efficienti per rispondere alle nostre esigenze. Mi riferisco ad esempio a soluzioni per sfarmare il prossimo miliardo di persone, oppure per roviare alla scarsità di risorse naturali, come l'acqua, o ancora per preservare l'ambiente dall'inquinamento, e in un ultimo per importanza, per combattere e debellare le malattie. Alla luce di ciò, non credo che sia difficile immaginare per nessuno di noi come il termine biotecnologia, negli ultimi anni, sia diventato decisamente sexy. Sì, sì, avete capito bene. Sexy. Le biotecnologie oggi sono sexy. E non solo per l'entusiasmo che sono in grado di generare con le loro soluzioni innovative, spesso rivoluzionarie, in grado di farne un motore della grande transizione della nostra epoca. Ma le biotecnologie oggi soprattutto sono sexy perché ci vedono indiscussi protagonisti, come ad esempio nel caso delle biotecnologie applicate al mondo della salute. Al tema della salute umana si sono dedicati con grande passione i più grandi innovatori di ogni tempo e di ogni luogo. E stando alle ultime statistiche sulla qualità e la durata della vita umana, i loro sforzi non sono stati vani. Anzi, pensate che dal 1800 ad oggi la popolazione mondiale è passata da un miliardo di individui a oltre 7 miliardi e l'aspettativa di vita media è aumentata di circa 30 anni. dai 50 anni del 1800 agli oltre 80 odierni. E questi dati sono ancora più incredibili se consideriamo il breve tempo che è intercorso per la maturazione di questo successo. Un tempo che è stato di circa 200 anni e che è stato quello impiegato dalla scienza medica per combattere in modo effettivo le malattie, individuare nuove cure e di fatto allungare la vita. A tutto ciò ha contribuito in modo fondamentale il modello della medicina sviluppatosi nel corso del ventesimo secolo. Un modello a cui tutti noi dobbiamo gran parte del nostro benessere odierno. Qui i protagonisti sono il medico e il farmaco. Quest'ultimo concepito come una vera e propria icona della salute. Il paragrigma è quello del one size fits all in cui la cura viene concepita come un rimedio valido per tutti. Un rimedio progettato su basi statistiche e sulla individuazione e definizione di un paziente medio. Ora vi chiedo «Vestireste mai un palombaro come un pompiere?» Ovviamente no. Ma se entrambi avessero il mal di testa, cosa fareste? Probabilmente offrireste ad entrambi il medesimo rimedio per l'emicrania. Ora riflettete insieme a me quante volte vi è capitato di assumere un farmaco e non ottenere l'effetto desiderato, anzi alcun effetto. Vi posso dire che capita più spesso di quanto crediate e non tanto perché il farmaco non sia efficace quanto piuttosto perché probabilmente quel determinato farmaco non funziona nello specifico per voi. E questo può dipendere da una miriade di fattori che possono essere legati all'età, al sesso, all'etnia dell'individuo. Oppure al suo stile di vita. Alla sua alimentazione, al fumo, all'alcol o ancora al suo patrimonio genetico. Quindi una miriade di informazioni che concorrono a determinare la nostra risposta ad uno stimolo terapeutico. Un vero ginepraio di informazioni a volte difficili da interpretare, difficili da comprendere. E proprio per esplorare e gestire al meglio questo patrimonio di informazioni, per navigare con maggiore efficacia questo orizzonte di variabilità individuale che è nata la medicina di precisione. Ove la cura non è più un rimedio valido per tutti, ma per ognuno. Il protagonista è il paziente e la medicina di precisione lo pone al centro della sua indagine operativa, raccogliendone a riguardo informazioni esperienziali, quelle ambientali, la storia clinica, quelle che possono essere informazioni genetiche, il tutto al fine di disegnarli intorno una vero e propria nuova ricetta della salute. Una ricetta che, come tutte le belle ricette, ha quattro ingredienti fondamentali ed è personalizzata, predittiva, preventiva e partecipativa. Le decisioni qui vengono prese in stretta collaborazione tra il medico e il paziente che stringono proprio una vera e propria partnership di cura. e lo stesso rimedio terapeutico è completamente concepito e realizzato a partire dal paziente o, nello specifico, dai suoi geni, dalle sue cellule e dai suoi tessuti. È questo il mondo dei farmaci di terapia avanzata, che sono uno degli esempi più innovativi di medicina di precisione ad oggi disponibili, alla cui nascita e alla cui sviluppo il nostro paese l'Italia è stato uno dei più grandi contributori. Tali farmaci sfruttano la stessa biologia del paziente per intervenire con tecniche di ingegneria genetica e biologia molecolare al fine di intervenire direttamente sul DNA e progettare geni che possano correggere, sostituire, modificare o addirittura regolare per trattare quelli difettosi, ad esempio per trattare alcune patologie genetiche, oppure per armare e addestrare cellule del sistema immunitario al fine di combattere più efficacemente ad esempio alcune tipologie di tumore. Tutto ciò è semplicemente entusiasmante o, lasciatemelo dire, decisamente sexy. Eppure, come per tutte le grandi evoluzioni della scienza, le terapie avanzate sono agli inizi del loro viaggio e, come potete immaginare, molte sfide le attendono all'orizzonte. A testimonianza di ciò, sono a presentarvi Nicole. Nicole è una paziente oncologica affetta da una forma di tumore del sangue che combatte con coraggio e con determinazione da ben nove anni. Circa tre anni fa, Nicole, avendo provato senza successo tutti i trattamenti disponibili sul mercato ed essendosi rassegnata a quello che poteva essere il decorso della sua malattia, è stata tra le prime pazienti trattate con un innovativo farmaco di terapie avanzate. I linfociti T di Nicole sono stati ingegnerizzati geneticamente per combattere il suo tumore. In particolare, le sue cellule T sono state prelevate dal sangue, sono state modificate geneticamente per esprimere sulla loro superficie un particolare recettore, CAR, in grado di potenziare la risposta immunitaria e sono state quindi reinfuse all'interno del suo organismo. Ed ecco come con le terapie avanzate abbiamo cambiato la sua vita. After my first CAR-T clinical trial, or before, I was on hospice with three to five weeks to live. And I was planning a funeral, getting baptized, preparing for death, and I was very matter-of-fact and okay with it. I've really learned and experienced the transition in clinical medicine. I started with a very general protocol in 2010. I achieved the remission that I needed to achieve. I said that an initial cancer diagnosis of this nature would take two to three years. In 28 days, I was... Do we call it cured? I don't know. Can we call it cured? CAR-19 didn't cure me. But CAR-22 could. It's a new and advanced cellular therapy. We don't know what's going to happen. I'm always going to have that worry of is my cancer going to return? And it's likely that it could and would. But because of the work that you guys continue to do, and because of the support that I get from my amazing team at UPenn, and all the professionals and associates who support me, it's... It's... It has really given me a second chance. We don't know if we have a cure for cancer yet, but we're working toward that. And this is where... This is where I say thank you for all of your effort, for your hard work, and for inspiring me and others to work together and to create... to create or reach a dream that we're all working hard to achieve. La storia di Nicole è uno dei sempre più numerosi esempi tangibili della grande transizione in corso nel mondo della medicina di oggi. Una transizione che ha il paziente come protagonista e lo coinvolge sia dal punto di vista terapeutico. Vi ricordo infatti che alla base della terapia di Nicole ci sono le sue stesse cellule e sia dal punto di vista relazionale, in quanto oggi il paziente è sempre più bisognoso di maggiori informazioni, di maggiore educazione, di maggiore partecipazione in quanto protagonista indiscusso della cura. Ma soprattutto la storia di Nicole ci ricorda come queste innovazioni non siano una panacea per tutti i mali né tantomeno un rimedio valido per tutti. Nonostante le ottime premesse infatti la stessa Nicole qualche settimana fa ha ricevuto la notizia della ricomparsa della sua malattia e a breve si sottoporrà ad un nuovo trattamento a base di terapie avanzate. Forza Nicole, siamo tutti con te! Non magia dunque ma scienza la scienza di questo secolo che come sempre anche nel passato avanza per tentativi imparando e migliorando anche attraverso gli insuccessi. abbiamo detto che siamo all'inizio di un viaggio che non è privo di ostacoli ci sono molte lezioni ancora da imparare e nozioni da acquisire lo sguardo dunque va doverosamente rivolto verso il futuro e verso le opportunità e le sfide che ci riserva. Cosa ci riserverà al domani? Risponderò all'italiano dipende e per aiutarvi a comprendere meglio questa mia risposta vi invito a fare insieme a me un veloce tuffo nel passato. Avete mai visto questa foto? In questa foto sono ritratti i protagonisti di una delle più grandi transizioni del secolo scorso quella che ci traghettò letteralmente nell'era della fisica moderna. Nella foto alcuni giovani brillanti ed entusiasti due dei quali vincitori del premio Nobel Fermi e Segre che dai laboratori del Registituto di Fisica di Via Panisperna a Roma negli anni 20 e 30 del Novecento in un periodo di grande tensione e cambiamento contribuirono a muovere gli straordinari passi che portarono all'ascita della fisica nucleare dell'energia atomica e alle loro straordinarie applicazioni anche nel campo della medicina e della salute. Passi straordinari però non sempre mossi nella corretta direzione come ci ricordano le tragedie di Hiroshima e Nagasaki a seguito delle quali l'opinione pubblica di allora iniziò a interrogarsi sull'etica e su quelli che potevano essere i pericoli o i rischi che si celavano dietro l'opportunità del nucleare. Riflessioni queste non dissimili da quelle che oltre 60 anni dopo animano il dibattito oserei dire intorno all'applicazione delle biotecnologie e delle biotecnologie della salute in particolare. La moderna bomba atomica risponde al nome di eugenetica e ha dato un primo assaggio della sua attualità qualche tempo fa con il caso delle gemelline cinesi venute al mondo con il DNA geneticamente modificato in laboratorio al fine di lasciarle e renderle più resistenti alle infezioni da HIV. Un caso che se confermato aprirebbe a scenari quasi fantascientifici super uomini e super donne con i risvolti etici che potete facilmente immaginare. Rischio opportunità dunque gemelline cinesi o Nicole il miglioramento della salute umana attraverso l'applicazione su larga scala delle biotecnologie è oggi un tema tanto importante e centrale quanto delicato e di difficile valutazione e giudizio. Saranno necessari tempismo e chiarezza per intavolare fin da subito un dialogo aperto costruttivo consapevole informato al fine di scongiurare il rischio della nascita di un timore ingiustificato nei confronti di queste grandi innovazioni. Un timore che potrebbe vanificare i risultati sin qui ottenuti con tanta fatica e precluderci grandi opportunità per il futuro. Al tempo era la fisica oggi sono le biotecnologie così come i tempi dei ragazzi di via Panisperna una grande sfida non solo scientifica ma soprattutto etica e sociale si profila distintamente all'orizzonte e noi noi biotech generation siamo oggi chiamati a rispondere. Ognuno è artefice della propria sorte dicevano gli antichi romani e anche questa volta la nostra di sorte dipenderà dalle scelte più o meno informate più o meno consapevoli più o meno coscienti che come biotech generation saremo in grado di prendere per il bene e la sopravvivenza della nostra specie nell'attesa che giunga la prossima grande transizione. Grazie Grazie